L'avevo detto, avevo cominciato a parlarne e a dirlo quest'estate, insistendo sul fatto che a scuola non si dovesse tornare, che se veramente questa era l'emergenza di cui si parlava così tanto, avremmo dovuto non mandare i nostri figli a scuola. Ora la situazione è complicata, è complicata in maniera incredibile dalla burocrazia che si è sedimentata al di sopra di questa questione del virus e che rende il tutto ancora più complicato, macchinoso e anche drammatico, diciamo, perché forse l'aspetto del virus sta diventando l'aspetto meno drammatico della situazione. Ci troviamo quindi una scuola nella quale i bambini, i ragazzi si trovano in classe distanziati, con delle regole ben precise, al di fuori, negli spazi circostanti la scuola hanno le mascherine, ma sentiamo casi, perché spesso mi scrivono insegnanti, ma anche genitori, di abusi veri e propri da parte di docenti che, che ne so, decidono di far mettere le mascherine all'interno dell'aula, anche se questo è assolutamente contro le disposizioni, e quindi obbligando i ragazzi o i bambini a tenere la mascherina al chiuso, anche dietro al proprio banco, oppure insegnanti che castigano e puniscono gli alunni che magari non sono attenti o chiacchierano, imponendo loro come forma di castigo, di punizione, proprio quella di mettersi la mascherina. Abbiamo insegnanti che entrano improvvisamente in aula e spruzzano cose non chiare nelle mani dei bambini, o insegnanti particolarmente nevrotici che escono di colpo dall'aula ogni dieci minuti per igienizzarsi le mani. Abbiamo anche insegnanti molto in gamba che cercano di mantenere il timone dritto e che stanno cercando in qualche maniera di frenare, di arginare tutta questa nevrosi, ma è abbastanza probabile che la generazione che stiamo tirando su sia una generazione che si rivelerà piena di nevrotici, piena di ossessivi compulsivi, piena di ossessioni da contaminazione. Questi sono problemi veri e propri. Mi viene in mente Aldo Moro e la moglie che ha sempre sostenuto, anche se in ambienti privati, che non fosse possibile che il marito avesse ricevuto dalle Brigate Rosse all'interno delle tasche un gettone telefonico una volta uscito dalla prigionia, questa era la scusa, gli avevano detto ti diamo un gettone così appena esci dal covo potrai telefonare ai tuoi parenti. La moglie di Moro ha sempre detto che questo era assolutamente impossibile perché Moro aveva un problema, non poteva toccare i soldi perché sentiva subito di essere stato contaminato da qualche virus, o comunque questo era il timore. Sono tante le persone che sono in questa situazione, con queste difficoltà, ma adesso questa cosa si moltiplicherà a dismisura. D'altra parte, diciamocelo chiaro, non è che ci si possa proprio divertire. Mettiamo che il bambino che starnutisce e che adesso, secondo le ultimissime disposizioni, deve essere subito isolato nell'aula Covid e quindi gestito dall'insegnante responsabile Covid, che praticamente è il primo che se lo becca nella scuola. Questo bambino che cosa fa? Subito nel momento in cui manifesta sintomi, che in realtà potrebbero essere anche sintomi di una normalissima influenza, deve essere riportato ai genitori. I genitori devono venirselo a prendere, ma il problema è che poi comincia una fase, che è quella dell'analisi attraverso il tampone. E se il tampone è negativo, ok, è stata una brutta esperienza, dopo tre giorni torna, o più di tre giorni torna col certificato medico, anche se lì, anche su questo ci sono pareri discordanti, e la questione finisce lì con tutto uno spavento che si è beccato lui, la famiglia e tutti gli altri compagni. Ma la situazione diventa veramente grave nel caso in cui il bimbo sia positivo, anche se è asintomatico, anche se è davvero un raffreddore che non c'entra a nulla, perché in questo caso viene quarantenato lui, i suoi compagni, i suoi insegnanti, tutti gli altri colleghi che hanno avuto a che fare con quegli insegnanti, e quindi probabilmente l'intero collegio docenti, il preside, i collaboratori scolastici, il personale ATA, più tutte le relative famiglie, più i colleghi di tutti i componenti delle relative famiglie, più i figli delle relative famiglie, più i loro compagni, i loro insegnanti, i collaboratori scolastici, il personale ATA e tutte le relative famiglie, più i colleghi di tutti i componenti delle relative famiglie, più i loro compagni e via di seguito. Insomma, in una situazione che, come ho ironizzato in un post tempo fa, la fiera dell'est di Branduardia confronto è una passeggiata. Ecco questa è la situazione io continuo a dirlo e siamo ancora in tempo anche se chiaramente nessuno mi ascolta la scuola in queste condizioni non può funzionare si interromperà in continuazione costringendo i genitori sempre più a quarantenarsi da soli o comunque a trattenere i ragazzi e i figli i bambini a casa piuttosto che rischiare di bloccare tutto e di bloccarsi tutti. In questa situazione la scuola va bloccata va fermata va chiusa e bisogna a questo punto organizzare lezioni a distanza anche se sono la cosa peggiore ma non solo permettere ai ragazzi soprattutto i più grandi di potersi preparare da soli indurre comunque gli insegnanti appunto a fare lezioni su internet ma non come unica risorsa c'è la risorsa dei libri di altri insegnanti che che vengano a domicilio c'è la possibilità degli stessi genitori che aiutino i ragazzi e poi diciamocelo chiaro questo non può funzionare come funzionato l'anno scorso e cioè che poi alla fine dell'anno tutti promossi bisogna entrare in un ottico in cui quest'anno tutti i ragazzi e tutti i bambini facciano un anno da privatisti dopodiché nel momento in cui l'anno finisce intorno ad aprile ogni scuola si prende alla briga di fare l'esame integrativo ai suoi studenti a tutti i suoi studenti uno per uno come se fossero tutti privatisti e a questo punto far passare l'anno e promuovere soltanto quelli che se lo saranno meritato e che avranno dimostrato di aver studiato durante l'anno buonasera